Grazie a tutti. E non leggono quelli nostri, anche se qui, alla biblioteca che prima era un mattatoio, abbiamo una sezione fantasy e una fumetti che sarebbero il sogno bagnatissimo di qualsiasi vero nerd. Le studentesse non mi sembrano nerd e quei bei libri restano sempre sugli scaffali. Che poi mica studiano davvero. Cazzeggiano per la maggior parte del tempo e poi si vanno a fare un caffè nell'angolo relax e stanno col telefono sui divenetti e cose così. Sì, manca il solito vecchio che arriva sempre a fine serata. Praticamente quando devo chiudere alla fine chiudo sempre più tardi e mica mi pagano di più se tengo aperto oltre per colpa del vecchio. La biblioteca era la cella frigorifera numero 9 del mattatoio. E sul soffitto ci sono ancora i binari per spostare le carcasse delle bestie macellate. Quando hanno ristrutturato il mattatoio e lo hanno fatto diventare una biblioteca, ce li hanno lasciati e li hanno pure riverniciati. E sembrano nuovi nuovi, anche se penso che i dimanzi appesi qui non se ne vedano da almeno 40 anni. I muri sono belli spessi per tenere il fresco di quella che era la cella frigorifera. Ed estate si sta una bellezza. Ma oggi non è estate. Qui dentro, ogni tanto, vedo qualche mucca, ma non è mica appesa. Sono mucche silenziose e traslucenti, che continuano a passeggiare belle e tranquille come se stessero ancora a pascolare e sembrano non essersi accorte di quello che è successo loro una quarantina di anni fa. Quando le mucche mi attraversano, io sento a volte una pace avvolgente. Sono le mucche più sceme. A volte un'ansia, come di una cosa grossa che sta per esplodere. Sono strane le mucche. Il vecchio della chiusura in ritardo non ci sta tutto con la testa. Certe volte se ne viene con indosso guanti di lattice tipo infermiere o uomo delle pulizie, come se non volesse prendere una malattia. E la cosa avrebbe pure senso, se non fosse che di guanti ne porta solo uno e sempre a sinistra. Io non lo so se esistano malattie solo mancine. E forse dovrei chiedere alle tue studentesse biologiche, ma mi vergogno e non lo faccio mica. E poi io non ho tempo da perdere appresso a due studentesse. Le mie energie sono tutte per la ragazza. Guardo il telefono per vedere se mi è arrivato qualche messaggio, ma niente. La ragazza viene poco qui, ma quando viene, qui cambia tutto. A volte quando arriva non riesco più a vedere le mucche. Altre volte le mucche restano e le si stringono intorno come se lei fosse la regina di tutte le mandriane. Anche se lei non se ne accorge mica. Quando la ragazza entra dalla porta, Giacomo fa finta di niente, ma lo so che guarda prima lei e poi me, per vedere che effetto mi fa ogni volta che la vedo. La ragazza viene qui per studiare e per stare un po' con me. A volte resta fino alla chiusura e mi aiuta a sistemare tutto. Ogni tanto parla anche con il vecchio. Quando il vecchio mi prende in giro e dice «Ma che bella ragazza che hai!», lei risponde che siamo solo amici. E io sorrido. Anche se non vorrei mica sorridere, ma dirle «Ti voglio più che bene!». La ragazza starebbe una favola vestita da mandriana. Giacomo è l'unica persona con cui parlo della ragazza. All'inizio facevo finta di niente, ma poi mi ha detto che quando entrano gli altri, pure le studentesse fighe, io saluto sempre mezzo arrabbiato. E invece quando entra la ragazza, io la saluto quasi felice. Non posso nascondere niente a Giacomo, lui sta qui da un sacco di tempo. Giacomo lavorava qui, quando qui era ancora la cella frigorifera numero 9. Adesso invece di ammazzare vacche, cerca di capire cosa stanno studiando le due studentesse. E ogni tanto butta un occhio nelle scollature. Con Giacomo ci parlo solo io, perché è morto nel sonno a casa sua non so quanti anni fa. E poi, invece di rimanersene lì, ha deciso di venire qui, dove c'era la sua cella frigorifera. Meglio le vacche che la moglie, dice sempre. Forse qualcuna delle mucche che stanno qui a pascolare traslucenti le ha ammazzate proprio lui. La presenza dello sguardo magnetizzato dalle scollature di Giacomo non sembra avere alcun effetto sulle studentesse. Giacomo non guarda mai la scollatura della ragazza. Le vuole bene. L'altro giorno io e la ragazza abbiamo litigato di brutto. E lei è andata via dalla biblioteca senza aiutarmi a chiudere. Non è più tornata e non ci siamo più sentiti. Durante la litigata Giacomo e le mucche non hanno fatto niente. Ma quando siamo soli Giacomo mi dice di mandare un messaggio di quelli belli alla ragazza per fare pace. Io gli rispondo sempre male e gli dico di badare le sue mucche. Lui borbotta, ma non è mica offeso davvero. E poi ho i messaggi belli, non li so mica scrivere. Allora Giacomo mi dice di leggere qualche frase da uno dei libri che stanno sugli scaffali o di chiedere consigli alle studentesse che le ragazze le capiscono bene le altre ragazze. Ma io lo so che poi lui vuole solo buttare un occhio nelle scollature mentre ci parlo. Giacomo mi dà un sacco di consigli su cosa fare con la ragazza. Non ci capisce niente di donne lui. Lui con la moglie non ci parlava mica. Tutto quello che sa sulle donne l'ha imparato dopo che è morto. E secondo me l'ha imparato dalle mucche. Che poi io la moglie di Giacomo non l'ho mai vista e non lo so mica se è mai esistita. Quando Giacomo mi attraversa sento freddo. Quel freddo che brucia come quando tiene in mano un blocco di ghiaccio ma bello grosso. Non capisco se è il freddo della cella frigorifera che era prima a questo posto o il freddo suo suo. Perché Giacomo quando mi parla fa il simpatico ma sotto sotto rimane distaccato. Insomma il freddo è una caratteristica tutta sua. A me il freddo non piace mica. Anche se lavoro in quella che era la cella frigorifera numero 9. Controllo il telefono. Nessun messaggio della ragazza. Le studentesse stanno chiudendo gli zaini. Poi io inizierò a rimettere i libri prestati al loro posto e chiuderò tutto. Giacomo non c'è. Forse è in bagno. Forse è andato nell'altra parte del mattatoio dove lavorava per macellare i suini. La ragazza è tutto fuorché freddo. Quando mi parla è tutto un fuoco. E non mette bene le parole una dietro l'altra perché è sotto sotto emozionata. E io non gliel'ho mai detto. Ma è una cosa di lei che mi piace molto. Anche quando abbiamo litigato l'era tutta un casino senza senso ma a me ha dato meno fastidio di quello che pensa. Perché è davvero bella e vera quando fa così. Prendo il telefono. Sfoglio uno dei libri da sistemare come se cercassi una delle frasi belle che dice Giacomo ma in realtà non leggo niente. Non è un fantasy di quelli che piacciono ai nerd. Scrivo alla ragazza. Una frase scritta veloce veloce senza neanche un briciolo di freddo ma tutto fuoco e fretta come quando mi parla lei e poi premo invio. Perché alla fine lo sappiamo che io e la ragazza ci vogliamo più che bene. Solo che è più facile dire che siamo solo amici. Io le vorrei soltanto dire che le voglio più che bene. Ma non è una cosa semplice da dire e anche da ascoltare. E aspetto a dirglielo ma un giorno glielo dirò. E lei lo sa e aspetta. O forse lo dirà prima lei. Una volta ho chiesto a Giacomo cosa sente lui quando mi attraversa. E lui ci ha pensato un attimo e poi mi ha risposto. È meglio di quando attraverso le mucche. Le studentesse escono e io le saluto a mezza bocca. Il vecchio col guanto a sinistra ancora non arriva. E tra un po' devo chiudere. Se arriva tardi come al solito stavolta gli rispondo male, lo caccio via e chiudo in orario. Siamo rimasti solo io e Giacomo che è tornato dalla sua passeggiata. Ogni tanto passano un paio di mucche. Io sistemo le mie cose. Mi arriva un messaggio. È della ragazza. Non lo apro e guardo solo l'anteprima senza leggere tutto. È un messaggio bello. Con le parole un po' in disordine. Sorrido e mi guardo intorno nella biblioteca vuota. Ci sono Giacomo che non dice niente. Ma sorride. È una vacca morta che non fa assolutamente nulla. Ma di sicuro è contenta pure lei. Deve essere una delle mucche sceme. Perché alla fine lo sappiamo tutti che anche la ragazza mi vuole più che bene. Solo che è complicato. Ma diventerà semplice. Il vecchio col guanto a sinistra entra e fa buonasera. E io gli faccio un buonasera quasi felice. Grazie. Grazie a tutti